Davide Capodici è stato nominato coordinatore politico del Movimento Nisseno Open Politiche Aperte, il cui candidato sindaco è Rocco Gumina. Il trentenne Capodici è laureato in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali, è esperto in sviluppo sociale di comunità e di progetti europei e tra l'altro è uno dei fondatori di Open Politiche Aperte. Per Rocco Gumina la nomina rappresenta un segnale significativo per il prosieguo dell'attività politica di Open che vede nelle prossime amministrative la prima tappa di una crescita che si svilupperà nei prossimi anni.